Via! Ok, ciao ragazzi, oggi faremo una storia, cioè del non mi contraddire che ho fatto già la mia madre. Adesso devo fare la mia zia e l'ho già fatta a Dali, che lo possano nel mio canale YouTube, Brianna Alessandro. Quindi, ora ti racconto la storia, devi ascoltare bene, ok? Quale storia? Questa storia. C'era un bambino che va a scuola e dice alla maestra, 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 quanto fa due più due il va? E la maestra dice cinque. E il domenico dice, no maestra, fa quattro. E quindi la maestra dice, non mi contraddire. Dice così, sì. E poi dopo il bambino va a casa, dei suoi genitori, e c'erano tre piani. Il piano della mamma, il papà e del cane. Te lo ricordi? Se mamma, papà e del cane, quindi va dalla mamma. E il primo piano dice, mamma, mamma, quando fa due più due la mamma dice, fa cinque. E il domenico dice, no mamma, fa quattro. La maestra cosa dice, non mi contraddire. Oh, e quindi il papà, poi dopo fa nel piano del, del, c'è la mamma poi, cani, no, c'è la mamma poi, c'è la mamma, c'è il papà, bene, c'è il papà poi, l'ultimo. E il bambino, no cane, il cane, poi dopo arriva, va dal papà e dice, papà, papà, quanto fa due più due? E quindi il papà dice, fa cinque. E il bambino dice, no papà, fa quattro, quindi non mi contraddire. Oh, dici così, ah, no, 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 no. Poi va nel, nel piano del, va dal piano del, cassa. No, del cane, del cane, no, aspetta, no, del quarto. E, poi, non mi ricordo, è di ricordare. Ma papà è ca, quindi qual è l'ultimo piano? Voltevo piano ai cani. Ok, l'ultimo piano è del gatto. Quindi, l'ultimo piano qual è del? Gatto, cane, del cane, no, non mi contraddire. Gatto, 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 gatto.